Domenica 27 agosto ad Ortona si disputa la gara podistica di corsa sul mare, la corsa più veloce dell'estate. Oltre alla gara competitiva che si disputerà su una distanza di 9 chilometri e 300 metri lungo un circuito cittadino, valida per Corri l'Abruzzo e Cammina l'Abruzzo, sono in programma una gara non competitiva di chilometri 3 e 100 metri ed una camminata Nordic Walking di chilometri 8. Il programma prevede il ritrovo alle ore 16 in Largo Castello con partenze alle ore 17 e 30 per le gare giovanili, alle 18 e 30 per la camminata Nordic Walking e alle 19 per la gara competitiva.